Una corsa per la solidarietà e per il benessere dei bambini con disabilità e con autismo. Il contesto della Milano Marathon ha fatto da sfondo all'impegno congiunto di Kimberly Clark con il marchio Aggies Try Nights e fondazione Renato Piatti, Ollus che dal 1999 lavora al fianco di persone con disabilità e delle loro famiglie. Abbiamo deciso di partecipare alla Milano Marathon per portare a conoscenza di tutti la nostra mission e soprattutto per accogliere fondi per il progetto Splash che vuole garantire un anno di terapia in acqua a bambini con disabilità complesse e autismo. È un progetto nobile, è un progetto importante, è un progetto rieducativo la terapia in acqua che garantiamo ai nostri bambini ed è un progetto sul quale noi facciamo grande affidamento perché sappiamo i benefici che la terapia in acqua può portare a bambini con disabilità complesse e disturbi nel neurosviluppo. L'unione delle forze e delle due realtà nel progetto Splash, la terapia in acqua per bambini con disabilità. Aggies Try Nights, marchio leader in Italia per pannolini specifici per le nuresi, per bambini dai 3 ai 15 anni donerà infatti un anno di terapia in acqua a 27 bambini con disabilità. Noi di Kimberly Clark siamo felicissimi di sostenere la fondazione Renato Piatti con il nostro marchio leader Aggies Try Nights. È un prodotto specifico per bambini con le nuresi dai 3 ai 15 anni e questo ci permetterà anche di aiutare la fondazione nella realizzazione del progetto Splash, terapia in acqua per 27 bambini con autismo. Da una parte quindi Fondazione Piatti con il suo e incomiabile lavoro sul tessuto sociale, dall'altra Aggies Try Nights e Kimberly Clark con l'occhio vigile pronto alle esigenze dei più bisognosi, soprattutto dei bambini, da accompagnare e sostenere passo passo in ogni aspetto della loro crescita.